no no aspettiamo un attimo Galli recupera il pallone Lupi l'appoggio dell'Acqua Paradiso Montichiari finalissima del torneo maschile l'Atlantica attacca con il supermancino alla fine c'è un fallo l'attacco di Pellizzoni che fa male ebbe 12 a 10 un servizio da 12 forza come San Faustino un servizio da 12 ve lo regalo se ne è comprato un servizio da 24 da 12 a 1 euro via andiamo c'è persona? c'è persona? mi ricordo che a seguire la finalissima ci sarà la finale per il terzo e quarto posto grande recupero sotto rete questo è beach volley puro facciamo un applauso perché qui si gioca l'attacco lungo sale la tensione 14 a 10 attenzione i primi segnali di cedimento ma forse no time out chiama l'Atlantide ah ho capito l'altro signorile Bergoli Pellizzoni oh molto bene la battuta l'acqua paradiso zitta zitta eccolo là un altro tocco del furbetto ancora in palleggio palla a banda Lupi la mette giù in diagonale stretto 16-11 allungo allungo i ragazzi dell'acqua paradiso ma non tutto è perduto attenzione riezione di Pellizzoni filo rete eccolo lì ci riprova Bergoli non vuole cedere vuole vincere questa partita la vuole recuperare 4 punti da recuperare per loro ma l'acqua paradiso non molla Pellizzoni in difesa Bergoli di là attenzione il piccolo folletto ancora ci prova Pellizzoni in toffo ancora lui il folletto dell'acqua paradiso Lupi la mette sempre lì chirurgico Lupi Orsato Belloni Galli ad un passo dalla vittoria Bregoli non cede attenzione ancora va a creare incertezza pallonetto 20 a 14 match point finalissima maschile la ricezione acqua paradiso al match point Pellizzoni appoggia la difesa di Lupi l'attacco dietro ancora difesa la palla è di là si tuffa Orsato ma non riesce a recuperare point la battuta l'Atlantide con Bergoli salto flotte riceve Lupi palleggio lungo Pellizzon non riesce a recuperare vincono ancora loro i ragazzi dell'acqua paradiso Montichiari facciamo un bel applauso sono stati molto molto bravi qui alla quiete intesa lavoro beach volley tour memorial stefi 3x3 maschile junior vinto da Lupi Orsato Belloni Galli in finale contro Pellizzone Bergoli e Signorile dell'Atlantide dell'Atlantide